L'almanacco della fede Di padre Livio Oggi cari amici siamo al mercoledì di quaresima quindi per il quale diritto romano incomincia la quaresima Che è un periodo di preghiera e di penitenza Penitenza vuol dire tante cose, vuol dire il digiuno, vuol dire le rinunce, vuol dire un itinerario penitenziale Che ci deve portare alla confessione pasquale Allora questi 40 giorni della quaresima cari amici sono ripresi fin dalle origini Dai 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto prima di iniziare la sua missione per affrontare il diavolo Quindi per 40 giorni ha pregato e ha digiunato Quindi era nel deserto, cosa volete che mangiasse? Forse avrà mangiato qualche erba, qualcosa di questo genere Però alla fine di questo tempo si avvicinò Satana E Gesù appunto era, come dire, nella sua santa umanità ricolmo dalla sapienza, pienezza e forza di Dio E Satana è stato miseramente sconfitto E questo per dire che, cari amici, nella lotta, nel combattimento spirituale per la salvezza eterna della nostra anima Che ovviamente i nemici sono certamente dentro di noi Le tracce del peccato originale che ci spingono al male E' il mondo che ci seduce, ci condiziona, ci trascina Ma poi alla fine è il demonio E' il demonio che vuole costruire un suo regno Un suo regno di morte E lo fa traviando le anime Ora, siccome questa è la nostra condizione qui sulla Terra Cioè qui sulla Terra Che è il tempo dalla prova La vita è il tempo dalla prova nella quale dobbiamo mostrare a Dio la nostra fedeltà E quindi entrare in lotta con la sua grazia contro le potenze del male Ora, anche noi come Gesù Dobbiamo fortificarci Con la grazia di Dio Perché senza di essa noi non potremmo mai essere vincitori Come ha detto Gesù stesso E senza di me non potete fare nulla Allora, questo tempo di quaresima Ha questo scopo di fortificare Diciamo così Fortificare le nostre anime Per far sì che Siano in grado di combattere La grande battaglia della vita Che ha come scopo, cari amici, l'eternità Questa è la prospettiva E quindi dobbiamo prendere sul serio questo tempo di preghiera e di penitenza Prenderlo sul serio Mentre, diciamo, abbiamo avuto questo fenomeno incredibile Che gli immigrati da noi musulmani Fanno il Ramadam E molte volte lo fanno anche strettamente Noi occidentali abbiamo praticamente Noi cristiani dell'Occidente Avevamo praticamente cancellato la quaresima Dalla nostra vita Come se la vita fosse un carnevale continuo Allora, questa è l'occasione Questa quaresima Deve essere un'occasione Per dare una inversione di tendenza Cioè, anche noi cristiani Viviamo la quaresima E viviamo in un modo interiore Ma anche visibile Esterialmente visibile Fatto questo cambiamento Da passi concreti La penitenza La preghiera Il digiuno La lotta al peccato La confessione pasquale Sono tutti passi concreti Per vivere la quaresima Allora, alla gente interessa soprattutto il digiuno Però io dico no Il quadro è molto più ricco Non basta il digiuno Ci vuole prima di tutto la preghiera E quindi il tempo di quaresima È un tempo di preghiera Cioè, rinverdire la nostra preghiera Il nostro Quella normale Le preghiere da dire Ma dire col cuore E poi anche la nostra preghiera personale Soprattutto davanti alla croce Questo sicuramente È il primo proposito Che dobbiamo fare Poi La preghiera Si fortifica Per la rinuncia La rinuncia Cari mesi È la rinuncia Alle bocche Fameliche Dei vizi capitali Che sono dentro di noi E che ci inducono al peccato Quindi Anche la forma del digiuno Che ha una tradizione enorme Nella vita della Chiesa Nella vita degli ebrei Nella vita anche di tante religioni Il digiuno serve per mortificare la fame di mondo Cioè la mortificazione della fame di cibo Serve per fortificarci Nel dire no A tutte quelle ische Che il demonio ci presenta Con le quali Come ha detto la Madonna Satana vi distrugge Con quello che vi offre Quindi Questa importantissima pratica del digiuno Ha un valore pedagogico Molto Molto importante Come anche Diciamo Gli educatori I medici Tante persone Che esercitano Questo tipo di professioni E che riguardano appunto L'educazione Di noi stessi E riconoscono Il valore del digiuno Che è riconosciuto Anche al di fuori Del cristianesimo Per la verità E che la Madonna Leggina della pace Ha rinverdito In un modo Molto Molto Forte Dando ad essi Significati anche più grandi E cioè Il digiuno Come rinuncia Diciamo così Al cibo Diventa Una palestra Per rinunciare Alle seduzioni Del mondo E diventa Un sacrificio Da offrire a Dio Per la pace Nel mondo La Madonna Ha detto Con la preghiera E il digiuno Potete fermare le guerre Per quante violentesse siano Ora Si apre la quaresima Cari amici Quindi noi entriamo Facendo dei propositi E per quanto riguarda La preghiera E per quanto riguarda Il digiuno E per quanto riguarda Anche le nostre mortificazioni E come vi ho detto La confessione pasquale Che È l'obiettivo Poi finale Della scesi La scettica La scesi Ha come scopo Proprio Quello di purificare Il cuore Per poter poi Vivere la Pasqua Come risurrezione E facciamo quindi I propositi concreti A questo riguardo C'è Il digiuno L'almanacco della fede Di padre Livio Música Grazie a tutti.